gentili telespettatori buona giornata torniamo a parlare di maroni lo ricordate maroni della lega della lega scissionista di quella di bossi la padania is not italy torna a parlare di salvini il grande il capitano della lega e dice ma perché non ascolta anche chi non la pensa come lui ascolta solo gli yes men di cui si circonda sono convinto che su questo terreno si possa recuperare ma chi sono gli yes men e gli yes men sono quella sorta di slap slap di cui sono piene intorno le persone che hanno potere soldi successo lo yes men è un opportunismo che gira intorno al miele come un'ape perché il famoso in questo caso il politico importante ti dà soldi può dare soldi potere e fama gli yes men sono quelli intorno a una persona potente che gli dicono e gli ricordano tutti i giorni che lui è un grande una leggenda un mito che se tutti fossero come te cristiano in italia avremmo avremmo i ponti d'oro ecco questi sono gli yes men quelli che lui dice ma secondo voi sbaglio ma no ma stai scherzando ma tu non sbagli mai ma io imparo da te ogni giorno è incredibile quello che mi insegni tutti i giorni questi sono gli yes men quindi per maroni lui è circondato da yes men dovrebbe ascoltare anche i no men i no men in questo caso il no men sarebbe giorgetti che gli fa gli fa vedere la realtà guarda là in faccia la realtà come diceva vasco rossi e giorgetti gli dice guarda e tu non sei capace a fare il leader e tu in europa non hai combinato niente e tu non sei un attore principale puoi fare un buon attore ma certo non da oscar premier premier draghi è l'unico che può fare il premier adesso cioè giorgetti ha cercato di dire a salvini che non è buono per fare il politico è forse un po' troppo dura questa realtà perché a salvini non è che dici guarda smussa quell'angolo e così così migliori cioè salvini lo devi cambiare completamente pertanto gli yes men gli dicono bravissimo intelligentissimo e grandissimo quelli come giorgetti gli dicono tu come politico non vali niente praticamente quello che sta dicendo giorgetti a salvini dimenticavo proprio 48 ore fa è andato a dire alla stampa che salvini dice cosa e poi fa altro gli sta dando della banderuola gli sta dando dell'inaffidabile dell'incongruente del del cacciaballe pertanto giorgetti ha descritto salvini come politicamente nullo cioè lui può fare qualsiasi lavoro nella vita tranne che il politico forse forse giorgetti è un po' troppo sincero perché se ha un capo politico gli dici tu non sei un capo politico sei solo tu che lo credi ma guarda che non lo sei certo non è propriamente che salvini dice no dai dimmi io ascolto molto interessato le tue cioè mi dici che non valgo niente sono interessato dalle tue opinioni no adesso ci rifletto magari vado vado a lavorare in un supermercato beh maroni dice che salvini da troppo ascolto a quelli che non la pensano come lui da poco ascolto a quelli che non la pensano come lui ascolta solo gli yes men di cui si circonda sono convinto che su questo terreno si possa recuperare a patto che salvini si rimetta ad ascoltare le sezioni gli imprenditore l'accent e quelli come giorgetti che lo criticano ma sanno fare politica lo dice a repubblica l'ex sottosegretario l'ex segretario federale della lega roberto maroni c'è con umberto bossi ho fatto tante litigate come quelle tra salvini e giorgetti io riconoscevo a bossi che il capo era lui e che il capo ha sempre ragione ogni tanto riuscivo a convincerlo solo che gli suggerivo le cose in privato non sui giornali bossi mi mandava a quel paese dicendo che non capivo nulla ma poi mi telefonava alle tre di notte per dirmi ho avuto un'idea faremo così ed era la mia dice così gli rispondevo umberto hai avuto una grandissima idea ma era l'idea della lega non di salvini o di giorgetti la lega era una sola non c'erano le anime che poi sono le correnti di pensiero ma sempre correnti questo è quello che ci ha fatto superare tutte le tempeste sì tu dicevi a bossi maroni quello che era secondo te corretto e quello ti mandava a quel paese però non credo che tu maroni gli dicevi a bossi che come politico era non valeva niente perché quello che ha detto giorgetti se voi sommate in queste interviste tutte le cose che ha detto giorgetti le mettete su un foglio provate mettete sul suo un foglio tutte le cose che ha detto giorgetti su salvini il risultato è salvini come politico è zero nullo ecco non credo che maroni ai tempi di bossi andava lì a dirgli guarda che te non sei capace a fare niente guarda che te sei un attore bravo sì ma non da oscar dici cosa poi fai altro in europa non non hai combinato niente non sei da premier c'è un altro che da pre non credo che maroni gli abbia detto questo magari maroni litigava con bossi su qualcosa ma non andava a dirgli tu non sei buono per questo lavoro ma tu sei il capo è io ti dico che non sei buono ma tu sei il capo non credo che sia andata propriamente così salvini molto diretto gli sta dicendo papele papele quello che lui pensa di salvini dice io da amico ti dico che praticamente non puoi fare né il capo politico né il presidente del consiglio in europa sei zero dici cose poi fai altro stai sbagliando tutto insomma non è che ha detto di positivo gli ha detto sì sei un buon politico però non da oscar certamente ecco insomma diciamo che giorgetti è stato finito troppo sincero perché quello che ha detto salvini è quello che pensa e molte cose coincidono con quelle che che penso io di salvini abbiamo scoperto il vero il vero salvini politico l'abbiamo scoperto da quando è entrato nel governo no dalla caduta del dalla caduta dal papete dalle citofonate ai crocifissi lì abbiamo cominciato a vedere chi era veramente salvini prima di allora era solo concentrato in ministero degli interni quirinale lui contro tutti dopo il papete dalla citofonata al rosario per settimane che sventolava anche nelle trasmissioni faceva le preghiere con barbara d'urso lo ricordate la roba da antologia della televisione da lì abbiamo cominciato a capire poi chi è il vero politico matteo salvini e quello che ho visto io l'ha visto anche giorgetti l'ha visto anche maroni ecco questa è la realtà che salvini ha spiazzato tutti tutti sono rimasti a bocca aperta dicendo ma questo è veramente il questo è il vero politico questa è la vera faccia di salvini cacchio allora prima avevo preso un abbaglio questo stanno dicendo più o meno quasi tutti tranne i tifosi salviniani che ancora lo difendono il meglio il capitano di qui il capitano di là arrivederci a tutti e grazie